Antonio, vieni alla lavagna. Tieni. Scrivi una frase a Piacese, così poi la analizziamo. Che frase? Una palunca, una Piacese. Dai, scrivi. Mettere l'accento su lei. Va bene così, bravo. Va bene. Ricopigliatela. Ma che minchia hai scritto? Natale oggi non è trick per niente. Natale oggi c'ha i cazzi suoi. No, no, resta qui per favore. Antonio, tu te la senti di analizzare questa frase? Beh, io veramente no. Qualcuno di voi è capace? Natale, Natale. Natale, il nome proprio di persona. Oggi, avverbio, ciao. Voce del verbo, cia vale, cia vale. Ma te zitto, fai la finita. Lo sappiamo che sei un'acciaio professore. Vuoi andare avanti tu, Natale? Sì, io ci voglio andare avanti. Analizza l'esamenca, professore democratico. Ma te zitto. No. No. Grazie a tutti.